Libri buoni come il pane, questo è il titolo che il nuovo presidio del Libro di Foggia Rivolta Pagina ha scelto per partecipare alla 18esima edizione della Festa dei Lettori, in programma in tutta Italia dal 29 settembre al 5 ottobre. E proprio giovedì due panifici della città riceveranno una piccola free library, cioè una biblioteca libera, con una dotazione iniziale di circa 15 libri a disposizione dei clienti che potranno anche aggiungere altri titoli. organizzata dall'Associazione Nazionale Presidi del Libro, infatti la Festa dei Lettori vuole portare i libri allo scoperto, nelle piazze per le strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei castelli e in altri luoghi inconsueti. Due panetterie per cominciare, perché spero che questa iniziativa nata dal gruppo del presidio di Foggia Rivolta Pagina sia solo un inizio, in realtà già abbiamo avuto altri contatti con altre panetterie e ci ha contattati addirittura una panetteria della provincia di Monte Sant'Angelo, quindi è un'iniziativa che già sta muovendo la città, che sostanzialmente è lo spirito che vorremmo portare. Il presidio del Libro di Foggia Rivolta Pagina nasce con questo spirito, quello di rivoltare le parti dormienti della città per muovere intorno ai libri, che sono sicuramente il fine, perché il libro è uno strumento eccezionale, ma anche il mezzo per connettere le persone.